il futuro sindaco della città metropolitana possa essere eletto anche dai cittadini che risiedono nella quella che è attuale provincia di Milano, però sul Consiglio metropolitano invece che sarà l'organo che avrà le sue competenze e che continuerà a funzionare, ci sarà comunque, continuerà ad esserci l'elezione di secondo livello che personalmente è una porcata in umane o invece è possibile, cioè già attualmente nella legge del Rio, ok perfetto, quindi eventualmente per eleggere direttamente anche il futuro Consiglio metropolitano ci sarà bisogno di più una legge nazionale che ti dice che è possibile fare, almeno ad oggi, poi dopo... Ok, perfetto. Non sto parlando mai, nel senso all'epoca c'erano dei emendamenti che chiedevano se così forse e ovviamente sono stati bocciati perché la volontà era che fosse un'elezione di secondo livello. Cioè che rimanga per il momento, la volontà è che rimanga l'elezione di secondo livello. Sì, i cittadini vogliono esplodere. Sì, siamo...